Finalmente ragazzi, e finalmente ragazzi, perché veramente questa volta possiamo dire che il Diamante 2 è arrivato! Siamo sempre sul mondo di Rocket League ragazzi, Rocket League, questa volta non è lo sfogo di Polygamer, ma veramente un partitone di Polygamer. Allora ragazzi ci troviamo davvero il Diamante 2, ma ci fa t'assunza tra l'amico il Diamante 2. Ok, sta partita non è venuto buona, però ragazzi, fino ad ora, e dico fino ad ora, stiamo acchiappando gente un po' più competente. Finalmente ci troviamo nel mondo della divisione 2, cioè, mamma mia, Diamante 2, divisione 1, scusatemi, scusatemi. Prontissimi, come sempre, qui all'interno del canale Polygamer, come ben sapete, la situazione è molto complicata. Cerchiamo di non scendere, perché ragazzi, veramente nella divisione 4... Vabbè, l'importante è che se siete Diamante 1, acchiappate gente veramente cadda gli affari cotta, secondo me. Almeno su Diamante 2 vi giocate veramente le partite, cioè, mamma mia, belle, devastanti, si fanno quasi 600 punti a perono. Sono partite veramente di lusso, ma vi faccio vedere un po' cosa potrebbe succedere. Giocando a una categoria come Diamante, non so se ci siete arrivati, se addirittura siete anche superiori. Se siete superiori significa che siete dei fottuti... ok. No, vabbè, stupendo, avevo tre di noi, non sapevamo cosa fare. Capita, capita anche questo in Diamante 2, ragazzi. Non è detto che siete dei fenomeni, eh. Cioè, io per esempio ci sono, ma proprio perché seguo il pallone come se fosse la mia ultima cosa da fare prima di buttare il pallone all'interno della porta. Cerco di fare assist, cerco di segnare, cerco di parare, cerco di fare tutto. Ovviamente se ha qua anche il giocatore di squadra che magari è bravo a parare, per me... Guardate che cross, con cross che tagge pari? No, non ci faccio mai pari, due pali, non uno, due, ne ha presi due. Ma, piggite questo cross. Ma, guardate là che cross... Mannaccia, sangiotto, che cross da cipare. Eh, papà. Aspettate. Oh, ma no, amici, hanno segnato? Oh, niente, sto... Lascia sanguolo. Aiuto, aiuto, mettetevele in testa, perché queste sono giocate, queste sono giocate, sono giocate solo di polygamer. Solo ed esclusivamente polygamer. Pronti? Recuperiamo questa remontata. Facciamo il 2 a 2, ragazzi. Facciamo il 2 a 2, perché il ragazzo non è male. Il ragazzo è bravino. Vediamo se riusciamo a concludere. No, no, ma no, ma no. Ma lo sono chiamato, ragazzi. Questo fa parte della divisione 1, secondo me, perché non è possibile. Nascita, sangri spavolo. Ma io, chissime, sono capace di farmi scendere divisione. Come è possibile che questo BOSTER PL... BOSTER PL, così si chiama, così si chiama. BOSTER PL si trova in una situazione come questa. DIAMANTE. DIAMANTE. 2. MA. Veramente, ragazzi, ho acchiappato gente forte a DIAMANTE 2, fino a mo'. Mo' bello e buono. Un po' di sconfitte. Stiamo acchiappando una dopo di ricuttare la prima divisione. Cioè, no, no. Sangra Glotz. Dove? Ma no. Dillo qualcuno buono. Qualcuno buono, ragazzi. Oh bello, non accetta l'amicizia. Perciò fai 50 punti. Fammo, uc. Non c'hai scchiatta da niente la porta. Però, compagni miei, ha fatto una cosa buona. Perché vediamo se ha fatto veramente quello che io penso. Perché ha ci fissato che ha scchiatto il gruppo con l'avversario. Ha fatto figli e droghe. Ha fatto figli e droghe. Comunque. Divisione 2. Ancora, ma ci fissate con questa divisione 2? Diamante 2. Divisione 1. Ma è proprio una fissazione con questa divisione 2. Ma teca, ma se mi mettevo il pallone in mezzo, stavo solo di sotto la porta. Oh, ma no, 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 mi chissà è buono. Ma fa ricotto, sto pallone, era buono. Bella, bella. Fratello, fratella. Bellissimo. Bravi. Chi sto, vedi, che bravi? Chi sto, vedi, che buoni? Chi sto, vedi, che buoni? Ma, che me la dotta. Chi sto, sto, vabbè? Ma da qua sto in mezzo? Chi sto, vedi, che buoni, che rovesciato, che rovesciato, sono cresciato, mamma mia, popopi, papopi, ho già tolemoni, ho già tolemoni, poligamer, madonna, 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 madonna. silence silence così si gioca a diamante 2 ragazzi così si gioca a diamante 2 e andiamo subito per diamante 3 chi dà un uolo? chi è che mi ha attaccato e stava fottato un uolo? ah bravamelo quando è bravichissima non mi sta piacendo abbastanza facendo certi cose stupende andiamo a mettere un uolo in volta un uomo parato eh questo è facilmente bravo a fare gli assist ma parano ci hanno fatto un po' che ripetiamo un po' buono un po' buono aiuto aiuto ma chi sa ci segnare sa ci fare gli assist e sa ci farà ma 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 perché non sono ancora divisi perché sono ancora diamante 2 questo è da diamante 3 ragazzi diamante 3 4 a 1 4 a 1 4 a 1 a te è una canna a te ma è un capolavoro questo ragione è un capolavoro è un capolavoro ma ha fatto una tasse una tasse sta facendo buono sta facendo buono ma gli chiediamo l'amicizia vediamo se vuole partecipare insieme al poli gamer per scalare le montagne ragazzi perché stanno scalando le montagne tra poco hanno scalato solo le montagne ma da chi la parata la parata la parata ma da maro un maron amico ma ci mani maro ma ci mani ma patata parata ma il sangra trattacolo a la parata usamo a cui bel mano quando è forte voglio mano un po' forte infatti contrasto possibile immaginavo io possibile immaginavo madonna toccare per caso e che stavano sulla stessa traiettoria mia del pallone ma se stavi in mezzo era un bel assist hai fatto la scontata qua eh no ragazzi in difesa sono proprio cioè su sa ci farà però certi voto quando venga a chi si ca che volano specialmente sa che appena un volo esatto non ci posso fare niente è difficile è difficile ancora ancora ci imparare alcune cose però veramente finalmente e dico finalmente stiamo accappiando 100 ne poco meglio anche se stiamo a 5 ma 4 cazzo sta succedendo applausi applausi bravissima veramente bravissimo questo compagno qua finalmente qualcuno degno di nota ok ve l'ho detto in diamante 2 tranne per due occasioni per il momento sto acchiappando sempre gente competente sul diamante 2 quindi ragazzi lo sfogo di poli gamer zone 2d ha funzionato fino a mo ok ma ci fate comunque tre parate non male per non potessere il portiere ci fate tre parate a figli androtti secondo me bello che la rotola vediamo vediamo se il ragazzo mike rider è disposto a partecipare insieme al poli gamer un 908 punti che chiede una mano al 555 punti veramente ragazzi stato bravo quindi anche se i punti a volte non significano niente ha giocato veramente da bijou diamo se accetta oppure no credo che non accetta perché c'è la seconda volta che capita che non mi accettano di formare il gruppo dei ragazzi che comunque dove io ho giocato anche meglio di loro ma loro comunque non accettano a volte può essere anche perché magari l'ultima partita loro e quindi se ne dovevano andare ah certo però a volte è capitato invece di giocare con altri peccato che poi hanno dovuto abbandonare però ragazzi questa giornata si può dire che stiamo acchiappando gente competente vabbè divisi cioè diamante 2 penso veramente aria pulita perché non si poteva più vedere quei tizi che cercavano di fare qualcosa ma alla fine non sapevano fa niente ma io è un fastidio mai visto giuro poi giuro vediamo questo allora come si chiama si chiama kamikaze mamma mia il nome è tutto un programma ragazzi kamikaze ma la prima parata è venuta allora abbiamo fatto i primi 50 punti kamikaze che stai facendo brava kamikaze bella kamikaze bella kamikaze mi attaccami mi attaccami kamikaze non so se c'eri tu ma per esempio se c'è matisse io di solito chato c'è oh oh con matisse ad esempio a volte siamo su skype quindi dico stai tu a rete si stonghi a lui magari ho lasciato pure un spazio ma poiché non sapevo che ha rischiato kamikaze però non stiamo accorto perchè stiamo comunque giocando con dei diamanti si sa i diamanti non è che sono scarsi i diamanti 2 specialmente forse i diamanti 1 si ma ragazzi secondo me sono tutti oro che sono diventate belle bonde i diamanti che non stanno nemmeno l'oro come hanno fatto diventare diamanti ma ah peccato come volevo fare scelti cosa secondo me dopo che esagerato si perchè si perchè erano complicate da fare oh buono buono guardate arrivare uguale a uno kabash ah che palla ci stai kamikaze? perfetto kamikaze ottimo ottimo wow ma ha fatto un stop ma roga amica magistrale magistrale ma ha fatto una corsa in un centrocampo vado in un centrocampo bella buona a città a città a città a mettere un tubo sotto gas e ce l'hanno fatta e ce l'hanno fatta perfetto 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 siamo belli ti mangia ti mangia da sopra ma che amica che ti mangiare wow ma tre tocchi tre tocchi amico oh che amica kamikaze tutta la rete sorry oh ma ro che sta succedendo ragazzi non ci fate cassa siamo diamanti due sembrava una città da principi ma che amica te la lascio kamikaze te la lascio te la lascio pensavo che segnavo e stiamo facendo giro e giro tondo casca casca il mondo casca la terra tutti giù per te e invece sempre balla la città e la cazzo è che ha paquillo uai sangra su chi uai che mi cazzo è non ne vado un gol a me istandare oh e che cazzo mamma mia ragazzi ditemi se questo c'è avere un compagno di squadra come me secondo me tutti lo vorrebbero dare che assista c'è proprio i palloni perfetti effetti perfettissimi ragazzi perfettissimi veramente c'è tenere un compagno di squadra come me che fa su tutti i palloni su tutti c'è cerca di andare su tutti anche quelli la più impossibile può facerti cross come questo ragazzo da qua che cross se ci aveccato un po lento un po lento stavolta cross o comunque no o o o e ci hanno fatto esplorare ma non ci capire chi è esplosato dopo anno il nostro mio compagno di squadra ero convinto che era esploso kamasutro ma mi cazzo un cazzo si chiama miss se no ma no 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 due a due ragazzi senza turbo senza turbo mi sono inventato un cross senza turbo senza turbo senza turbo li ho mandati fuori giri senza turbo ragazzi senza turbo e li mandiamo fuori giri questo si chiama abilità del giocatore veramente senza turbo e saperli mandare anche fuori giri oh questo era un bel passaggio era un bel passaggio per il kamikaze ma sono stato veloce no uaaaa uaaaa mamma mia cacciata ci ho fatto sbagliato proprio era meglio nato nato caccavo no perchè ci arrivavo scemo uaa è stato proprio un cuccato un cuccato ma io ho già chiappato a pappa pappa chiappato a chi sta pappa 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 tutti a me ragazzi tutti a me sangra culo ultima partita vediamo un po' cosa combiniamo no perchè veramente pappa 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 ma 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 certa gente no ma taglia a vendere poco che mi inizia e frearella secondo me gli poco che mi inizia e frearella invece no da venire a rompere ancora il patano a me c'è incredibile io secondo me ti tengo una calamita verso a gente scarsa la calamita dai io sono buono eh stunga eh è morto ma l'affanculo ma l'affanculo ma l'affanculo ma l'affanculo ma l'affanculo è un'attività complessa ci diamo l'appuntamento prossimamente non mancate ragazzi eh perché questo è un format di Rocket League molto intenso lo lo ma l'affanculo è una ma l'affanculo